Durante la settimana, il colombiano si è fermato in allenamento per un problema muscolare. Data la persistenza del dolore, il personale medico ha immediatamente deciso di sottoporsi a test diagnostici per avere l'immagine più chiara. Importante perdita per Atalanta, in particolare le ultime esibizioni del numero 91. Una delle annate più sfortunate per l'attaccante colombiano finisce anche al fantasy football. Against Verona, tuttavia, è tra i lupman convocato.